Stamattina c'è stata la presentazione, dopo la presentazione delle attività per la scuola, del nostro ultimo volume dell'Ufficio Bene Archivistici Libraria Archivio Provinciale, l'esercizio dell'autonomia. Il sottotitolo, fonti d'archivio, casi di studio, progetti, e dall'idea dei contenuti, perché si parte da un convegno che era stato organizzato nell'ottobre 2021 su questi stessi temi. Il valore del volume è proprio perché concentra e raccoglie e approfondisce tanti temi che erano già stati anticipate in sede di convegno e la scommessa di curare la pubblicazione sia cartacea sia online è stato proprio quello, come dire, di creare un luogo dove soffermarsi, approfondire, leggere le note a pie pagina, la biografia e la bibliografia eventualmente per approfondire, proprio per andare alla fonte di quello che è, come dire, la giornata che festeggiamo oggi. Il libro si può avere appunto come copia cartacea scrivendo al nostro ufficio e l'indirizzo è uff.benearchivisticilibrari.chiocciolaprovincia.tn.it oppure semplicemente in Trentino Cultura, nella pagina pubblicazioni, si trovano tutti i volumi di questa nostra collana Archivi del Trentino, che ha proprio lo scopo di presentare le fonti, le riflessioni, partendo dalla storia locale ma anche in una logica di confronto.